L'importante è che siano convinti i calciatori, perché poi in campo vanno loro, quindi se dicono così evidentemente sono convinti e io non posso che appoggiargli e essere d'accordo. Ma l'importante è essere convinti in maniera coerente, non solo a parole, anche con i fatti. L'avversario è un avversario di spessore, però poi in campo siamo sempre 11 contro 11, e quindi anche se credo che sia una delle squadre più forti del campionato, noi abbiamo la possibilità di giocarci alla pari, ma se entriamo in campo con il giusto atteggiamento, senza timore reverenziali e con l'atteggiamento aggressivo, come siamo entrati in moltissime partite, quindi eccetto due partite, Terni e Pordenone, credo sì, e non abbiamo mai concesso molto agli avversari. In questo giro ci sono molte squadre singolarmente forti, la Triestina è una di queste, ma anche noi siamo molto forti, individualmente dal punto di vista tecnico siamo un giocatore di forti, se miglioriamo dal punto di vista della convinzione, della personalità di testa, siamo un'ottima squadra, anche se giovane è un'ottima squadra.